Il Napoli sta vincendo 2-0 contro l'Udinese e insomma questo rende ancora più importante la partita di domani, ma di questo parleremo in un video successivo. Adesso facciamo un discorso. Intanto c'è stata l'ufficialità della nomina di Furlani come nuovo amministratore delegato del Milan, a riprova di una continuità con la precedente proprietà. Perché Furlani è stato uomo di Elliot, poi si è dimesso da loro e verrà assunto dal Milan, ricoprendo la carica appunto di amministratore delegato. Sui giornali si parla già di continuità rispetto alla linea precedente, chiaramente a noi interessa il campo, interessa più il lato sportivo, ma con un occhio teniamo sempre monitorata la situazione anche da un punto di vista dirigenziale, perché da lì poi arrivano i risultati e da lì arrivano anche le indicazioni su quello che potrà essere il Milan del futuro e anche abbiamo avuto le indicazioni di quello che è stato il Milan in questa stagione, dove l'apporto ad esempio dei nuovi, l'abbiamo visto, è stato molto meno importante rispetto ad esempio a Napoli, che sto guardando adesso, e quindi ci saranno delle valutazioni da fare, ma ci sarà anche tutta una seconda parte di stagione da giocare. Il tema del quale voglio parlare oggi è un tema legato, come dire, intanto a una domanda che vi pongo, perché magari io un'idea ce l'ho, ma la tengo per me, sul fatto che in Italia vengano soltanto proprietà americane ad investire. Avevo già fatto cenno a questa cosa in qualche video e ripeto, io un'idea ce l'ho, mi sembra che grossomodo, insomma, l'unico che si stia distinguendo, ovviamente rapportandosi alla situazione, rapportandosi al bacino d'utenza, eccetera, è la proprietà della Roma, che comunque ha fatto degli investimenti, che ha portato la Roma fuori dalla borsa e dal mio punto di vista questo non è una cosa negativa. Poi invece, ad esempio, non lo so, commisso a Firenze e in parte anche i nostri hanno gestito le squadre, con una visione che punta soprattutto a valorizzare il club, valorizzare il proprio investimento con discorsi infrastrutture, eccetera, le stesse intenzioni e anche gli stessi problemi, perché né a Firenze e nemmeno a Milano si fa lo stadio, per quel che riguarda noi non so come andrà a finire questa faccenda e non so nemmeno come andrà a finire la faccenda a Firenze, che mi sembra però già archiviata, per quel che riguarda noi chiaramente questo rappresenta un aspetto importante del lavoro della nostra proprietà e, oltre a questo, poi ci sono tutte quelle cose legate alla valorizzazione del brand, al marchio, la media company, tutte queste solfe qui, che sono utili ovviamente se portano a fatturato, se portano a crescita dal punto di vista economico, ma sono perfettamente, come dire, trasparenti agli occhi dei tifosi se non c'è poi un riscontro e se è, come dire, una cosa un po' che fa parte di un certo tipo di mentalità, di gestione di un business, che è quella per l'appunto americana. Ma all'interno di tutta questa storia c'è anche il calcio italiano e c'è quello che mi viene suggerito da un amico che scrive con fare un po' aggressivo, ma che gli perdoniamo, tale Andrea Kevin, che scrive In Italia si parla sempre di arbitri e VAR, in risposta al mio video su VAR del Cialtroni. La vogliamo finire? Dice che è tutti, tutti, no? Come ha detto l'ISI, no? È tutti insieme. Perché non pensiamo a come rendere più attrattivo questo campionato di merda per favorire investimenti come hanno fatto in Premier? Il nostro campionato più scarso della Bundesliga e di quello portoghese al momento. Allora, al di là dei toni coloriti, insomma è anche di un fare un pochino arrogante, ma al di là di questo, l'oggetto della contesa è la valorizzazione della Serie A, perché si parla di, insomma, di un prodotto che va valorizzato attraverso un certo tipo di contenuto, attraverso più che altro un certo tipo di investimenti da parte delle squadre, cioè si riversa sempre, e in parte anche giustamente, l'onere di costruire un prodotto ben fatto alle squadre di calcio. È chiaro che la gestione buona o cattiva di una società è alla base di tutto, ma poi ci sono altri fattori che sono, ad esempio, la qualità del prodotto che si va a vendere. E in questo caso non è solo responsabilità delle squadre, ma è responsabilità anche di chi il calcio italiano lo governa. E lo parlo proprio da un punto di vista tecnico. Ora, io non so se la produzione delle partite, da un punto di vista di esperienza visiva, è a pannaggio di, non lo so, della Lega, piuttosto che di Sky, non credo, perché c'era il discorso media con la produzione delle partite da parte della Lega, da parte di Sky, da parte di Dazon, non so chi proprio tecnicamente faccia le riprese e confezioni da cosa. Però non mi interessa nemmeno saperlo. Quello che posso dirvi con assoluta certezza, guardando spesso le partite degli altri campionati e guardandole anche attraverso la produzione di vari canali televisivi stranieri, vi sono reso conto davvero di differenze eclatanti per quel che riguarda l'esperienza visiva della partita tra la Serie A e il resto dell'Europa, diciamo, esclusa la Francia, che ha una proposta molto basica come la nostra e anche dei commentatori molto simili ai nostri, anzi quelli francesi, riescono ad essere persino più irritanti di quelli italiani. Ma, ad esempio, se noi guardiamo le grafiche che vengono proposte in Spagna o in Germania, ci rendiamo conto dell'abisso che c'è, non l'arbitro, che c'è col nostro campionato. Cioè, durante una partita del campionato spagnolo, io ho visto su, non mi ricordo che canale fosse, l'altra sera, lunedì scorso, ho visto il derby di Madrid, tra il Raio e il Real Madrid. Durante la partita vengono proposte tutta una serie di grafiche, ma dentro la partita, cioè in diretta, c'è la disposizione in campo delle squadre, con i pallini sotto i giocatori, mentre si muovono per farti vedere lo schieramento in campo. Ci sono delle statistiche nella zona di campo dove vengono battuti i calci d'angolo in percentuale, dove mette più volte il pallone quella squadra. Ci sono dati sui singoli giocatori, c'è la heatmap in tempo reale di un calciatore. Insomma, c'è tutta questa esperienza. La stessa cosa avviene in Bundesliga, dove ci sono i dati sulle percentuali di gol attesi di un singolo giocatore, addirittura la parte scommesse con le percentuali vittoria prima e dopo, la classifica in tempo reale. Ma queste cose, che da noi non ci sono, a parte la classifica in tempo reale, che c'è solo nel momento in cui c'è qualcosa di ciccioso, quindi a fine stagione, tutte queste cose, per cui che riguarda il campionato spagnolo, anche eccessive, nel senso che c'è proprio un po' un abuso di questa cosa, però comunque offrono una visione e, naturalmente, quello che fa meglio di tutti questo lavoro è il campionato inglese, che durante la partita offre alcune statistiche in tempo reale che sono veramente molto interessanti, tipo all'inizio del secondo tempo ti dice quante volte quella squadra, una delle due che gioca, è riuscita a rimontare il risultato di una condizione di X alla fine del primo tempo. Ti dà altri valori statistici, no? Tutti dei box veloci che passano, ma che arricchiscono la visione della partita. Io, sapete, sono un po' per il calcio all'antica, però vivo anche nel 2022, quasi 2023, e quindi apprezzo, se c'è da questo punto di vista, io poi anche che, diciamo, approfitto degli strumenti tecnologici per approfondire i temi del calcio, mi piace questo tipo di visione, no? Questo tipo di offerta che completa e intrattiene lo spettatore. Ma se in Italia tutto questo non c'è, e non c'è nemmeno, come dire, l'unica cosa, l'unica innovazione che è stata, sono state le immagini degli spogliatoi. Più fasulle di una banconota da, non lo so, da 2 euro, perché ovviamente, ma chi se ne frega di vedere dentro gli spogliatoi i giocatori che sono fermi immobili, no? E guardano la telecamera mentre si arrotolano i calzini. Chi se ne importa? Ecco, quella è stata la grande, no? Il massimo che siamo riusciti a concepire. Quindi, la valorizzazione di un prodotto non è solamente responsabilità delle squadre. È chiaro che se tu non riesci a vendere qualcosa, ci sono meno diritti televisivi e le squadre hanno meno possibilità di rafforzarsi. Ed è tutto un, come dire, il famoso, no, il gatto, il topo, non mi ricordo quell'animale, che si morde la coda. Però bisogna anche cercare di fare qualcosa di più dal punto di vista di produzione visiva delle partite, no? Ecco, questo è il confronto che io ho fatto e che effettivamente, Ligan a parte, è impietoso tra il nostro campionato e questi campionati che, invece, ripeto, offrono una visione molto più completa durante la partita. Quindi, ne hanno ben donde i nostri presidenti, i nostri dirigenti a dire che il calcio italiano va valorizzato perché è bim bum e tirano fuori poi sempre le stesse cose. Quindi i giovani e quindi gli stadi. Sì, ma non è solo un fattore. È tutto un fattore. E all'interno di tutti questi fattori ci sta pure la produzione visiva della partita che deve, come dire, e se lo dico io, potete fidarvi che è veramente così, deve abbracciare un pochino il nuovo millennio, no? Ecco. Bene, ho detto quello che volevo dirvi. Ci sentiamo più tardi per parlare di Milan-Fiorentina e visto che, insomma, è la partita tra Napoli-Udinese finita a gol di Zilinski, credo, a parlare anche delle prospettive di questo campionato per noi e voglio dirvi anche una cosa che ho notato oggi della squadra di Spardetti che mi è molto piaciuta. a più tardi.